Adesso è tutto chiaro. Eri d'accordo con quei subappaltatori del cazzo e quel politico figlio di puttana? Mi avete preso in giro, vero? Signor Bell, io non so... Uomo di merda! Adesso sistemeremo tutta questa storia e ti avviso, se non si aggiusterà in un modo o nell'altro, tu ci andrai di mezzo, stronzo! Senta, capisco la sua rabbia, ma al tempo stesso può vedere i progressi che stiamo facendo qui. Progressi? Onestamente non so cosa sia successo tra lei e il senatore Davis, ma se non è soddisfatto del comportamento di Clay... Oh! Oh, cazzo! Oddio! Oddio, no, no! Oddio, no, no! Oddio, oddio! Oddio, 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 oddio! Non sono armato Sentite ragazzi Io non c'entro niente Non sono più coinvolto in queste stronzate da gangster Che cazzo volete da me? Soldi? Mi avete sentito? Se sono quelli che vi servono potrei esservi più utile se rimango vivo, no? Non ci sei ancora arrivato Non siamo qui per i tuoi soldi Tuo fratello ti ha tradito, capisci? È così E non abbiamo dovuto nemmeno sfondargli il culo Beh, a quanto pare Credo che niente riesca a farvi cambiare idea Muovetevi figli di potato Questa è una cosa rispettiva Conocci Questa è una cosa rispettiva Grazie.